Il baccalà non è tutto uguale. Ecco come riconoscere e scegliere il miglior baccalà, quello norvegese, ovvero merluzzo fresco, gadus morua, proveniente dalle acque fredde del mar di Norvegia, pescato ed essiccato con tecniche sostenibili nel totale rispetto della natura. Il baccalà essiccato è molto nutriente ed è un'ottima fonte di proteine, vitamina B12 e selenio. Per riconoscerlo si consiglia di controllare l'etichetta che deve riportare l'origine e l'indicazione della produzione all'interno di una filiera sottoposta a rigorosi controlli. Una caratteristica fondamentale del baccalà di Norvegia è la facilità con cui la sua pelle si stacca. Solo in un merluzzo ben conservato ed essiccato la pelle si staccherà facilmente. Il baccalà non deve avere macchie né un colore biancastro. Il colore ideale dovrebbe essere paglierino e presentarsi bene essiccato, curato e pulito. Solo queste caratteristiche sono garanzia che la carne rimanga buona e compatta anche dopo la cottura e che mantenga il suo inconfondibile sapore. Un altro elemento da tenere presente al momento dell'acquisto è la coda del baccalà, quella del Gadus Mouroua, infatti, è quasi dritta e di un colore uniforme. La presenza del marchio Norvegia sulla confezione è garanzia che il baccalà acquistato è di ottima qualità e che è stato sottoposto a un rigoroso processo di produzione tradizionale che gli conferisce le sue caratteristiche uniche.